e buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono Cristian e si è su CryptoItac oggi vedremo il bitcoin su time frame orario giornaliero tra l'altro vedremo un paio di grafici diversi per quanto riguarda il bitcoin e daremo uno sguardo alla dominance di USDT che ci può dare degli ottimi spunti per quanto riguarda l'andamento del bitcoin dato che sta seguendo un triangolo che in teoria dovrebbe rompere verso il basso ma lo vedremo più avanti inoltre daremo anche uno sguardo alle analisi on chain iniziamo subito dal bitcoin attualmente ci troviamo a 28.151 dollari nella giornata di oggi abbiamo guadagnato il 4,38% dopo il dump di ieri a seguito dell'aumento dei tassi per quanto riguarda la fede dello 0,25 nell'ultimo mese siamo in profitto del 15,76 dall'inizio dell'anno del 64,69 l'indice povero aridità si è spostato in zona 57 quindi stiamo per tornare in zona neutralità si sta raffreddando dopo che eravamo arrivati sino ai 64,65 dei giorni precedenti questo può essere anche un buon segno per quanto riguarda la prosecuzione di questa fase rialzista spostiamoci sul grafico del bitcoin time frame orario il bitcoin sta seguendo questo canale rialzista abbiamo fatto da supporto in questa fase iniziale che eravamo intorno ai 20.000 dollari dopodiché abbiamo testato la linea mediana e poi successivamente l'abbiamo rotta e abbiamo testato la parte superiore di questo canale siamo stati rigettati siamo tornati al di sotto della 200 settimane che questa linea mobile nera e in questa fase abbiamo lateralizzato con il supporto della mediana di questo canale rialzista grazie a questa poi abbiamo avuto la spinta necessaria per poterla rompere poterci mettere al di sopra della 200 settimane sarà fondamentale mantenere la 200 settimane al di sotto di noi in modo da poterla utilizzare come supporto sarebbe un brutto segno qualora finissimo al di sotto di essa però ora vediamo a breve quali possono essere i vari target per le prossime ore e i prossimi giorni dicevamo quindi abbiamo di nuovo urtato la parte superiore di questo canale rialzista siamo stati nuovamente respinti quindi abbiamo proseguito abbiamo provato a rompere in questo caso i 28.600 dollari dove abbiamo avuto un primo test il secondo è l'ultimo dopo aver perso la mediana di questo canale rialzista l'abbiamo riguadagnata ma in coincidenza con i top c'è stato anche la mediana che ci ha respinto quindi io a questo punto mi aspetterei una lateralizzazione e un prezzo che inizia ad andare a dirigersi verso la parte bassa di questo canale comunque rialzista anche per scaricare un po' di euforia e un po' di RSI spostiamoci un attimo su quest'altro grafico time frame 4 ore sempre del bitcoin volevo farvi notare come il prezzo sta seguendo questa curva e sta testando tutti i bordi di questa curva quindi l'abbiamo iniziata qui l'abbiamo testata al millimetro in questa fase quindi parliamo del 14 marzo testata al millimetro anche ieri durante le parole di Powell e testata al millimetro anche oggi con due candele da 4 ore consecutive quindi possiamo aspettarci che qualora dovesse ritestarla possa fare da forte resistenza anche questa curva qui e possa farlo arrivare sino a target che vi dicevo nel grafico precedente che potrebbe essere la linea di supporto di questo canale rialzista questo è bitcoin time frame giornaliero possiamo notare come stiamo avendo supporto sullo 0.23 di Fibonacci vi avevo fatto presente la cosa anche nel messaggio del video di ieri subito dopo averlo pubblicato mi ero accorto subito del forte impulso rialzista che ha avuto a seguito del touch dello 0.23 quindi possiamo aspettarci magari nelle prossime ore un retesta anche della parte superiore di questo canale rialzista che in realtà stiamo seguendo da settembre del 2022 e che abbiamo tenuto per tutta questa fase al di là dell'uscita che abbiamo avuto per via del fallimento di FTX ma che ci ha fatto da fortissimo fortissima resistenza per tutta questa fase qui della parte iniziale di questo 2023 quindi potremmo anche andarlo a ritestare lo stesso coinciderebbe con i target che ci siamo dati quindi intorno ai 26.000 dollari più o meno dovrebbe essere questo target per poi da qui provare a rimbalzare e a proseguire con questa fase quello che vi dicevo è che a mio avviso non dobbiamo andare al di sotto dei 25.4 per poter vedere un bel proseguo di questa fase rialzista quindi magari in questa fase scendere lateralizzando sino ad andare a testare questi target dei 26.000 dollari e da lì provare a rimbalzare lo stesso possiamo monitorarlo per quanto riguarda la dominance di USDT in frame orario notiamo che unendo questi due top e unendo anche il top che abbiamo fatto nella giornata di ieri possiamo avere questo triangolo ribassista dato che ha la base orizzontale quindi in teoria i triangoli con la base orizzontale rompono sempre nella maggior parte dei casi verso il basso quindi potremmo vedere magari un rialzo per quanto riguarda la dominance di USDT che è inversamente proporzionale al bitcoin pertanto quindi un ritracciamento del bitcoin una volta ritestata questa forte resistenza io mi aspetto che comunque ci sia un ulteriore ritracciamento importante come quello che c'è stato in questa fase e come quello che c'è stato in tutte queste fasi e da qui provare a rompere questo triangolo e a fare nuovi massimi locali per quanto riguarda il bitcoin però dobbiamo monitorarli benissimo guardate come ha fatto da ottima resistenza la parte mediana di questo canale in tutta questa fase ci avevamo riprovato quindi qualora dovessimo risalire e ritestarla mi aspetto comunque un'ulteriore resistenza da questo punto di vista speriamo che rompa al ribasso e che invece non rompa al rialzo perché tutto è possibile a quel punto come target io mi aspetto di nuovo la parte superiore di questo canale rialzista che coinciderebbe anche con questa linea tratteggiata che per chi mi segue da più tempo sa della sua valenza ve la faccio vedere anche su time frame settimanale per chi invece è nuovo in modo che si possa aggiornare è questa linea mediana qui che coincide con un canale identico a quello che è stato per tutta la fase rialzista della dominance di USDT che è coincisa con tutto il bear market del bitcoin infatti siamo entrati in questo canale da ottobre del 2021 quindi da novembre scusate del 2021 e ci siamo usciti esattamente a gennaio del 2023 quindi in tutta questa fase rialzista il bitcoin comunque ha avuto il suo bear market da qui quando abbiamo rotto abbiamo avuto il nostro pump e adesso stiamo di nuovo a contatto della mediana di questo canale rialzista l'abbiamo rotta e attualmente ci troviamo al di sotto quindi la dobbiamo utilizzare come resistenza della dominance per poter proseguire e andare a testare la parte inferiore di questo canale rialzista per quanto riguarda un po' di analisi on chain volevo farvi vedere gli indirizzi con il saldo maggiore di 0,01 bitcoin che stanno aumentando in modo comunque costante al di là di bear market e al di là di bull market e tutto quanto guardate la linea com'è bella costante questo è un ottimo indizio sul fatto che ci stanno sempre più persone che stanno investendo in bitcoin guardiamo uno sguardo invece allo 0,1 per cento di bitcoin quindi 10 volte superiore questo ha avuto una bella accelerazione dopo in questa fase di bear market del bitcoin quindi stanno aumentando sempre di più i portafogli con 0,1 btc qui possiamo vedere i portafogli maggiori di un bitcoin anche questi qua hanno avuto un fortissimo rialzo rotti i 30 mila dollari quindi il mercato diciamo che ha premiato il prezzo al di sotto dei 28 29 mila dollari come un'ottima fase di accumulo per quanto riguarda un bitcoin superiore i portafogli con 10 btc o superiore possiamo vedere che anche questi stanno aumentando che erano diminuiti nella fase finale di questo bull market e che in questa fase invece stanno di nuovo aumentando quelli maggiori di 100 btc sono rimasti esattamente costanti una linea piatta questo anche può essere un buon segno del fatto che comunque non vengono venduti ma vengono conservati e quindi i portafogli rimangono sempre costanti invece per quanto riguarda quelli dei maggiori di 1000 bitcoin questi stanno avendo un lento declino dopo il topo che abbiamo avuto nel 2021 al di là di questo pump stiamo andando sempre a decrescere questo può voler dire anche che comunque dato che il prezzo è aumentato in modo vertiginoso iniziare a tenere più di 1000 btc in portafoglio anche per via della volatilità inizia a diventare un po' pesante ma questa è una cosa che già si sapeva perché più la andremo più il bitcoin varrà più saranno le persone che avranno meno quantità di bitcoin e meno saranno le persone con tanti bitcoin nel proprio portafoglio proprio perché diventerà un bene sempre più prezzato a mio avviso questi non sono né consigli finanziari né di trading ma sono solo le mie opinioni mi raccomando e quindi io penso che sia normale questa fase la cosa positiva è che tutti i portafogli con piccole parti di bitcoin stanno aumentando vuol dire che a livello globale ci sta molta più richiesta e quindi è una cosa positiva per quanto riguarda il bitcoin con questo video mi fermo qui se vi è piaciuto mi raccomando un bel like iscrivetevi al canale qualora non l'avete fatto attivate il click sulla campanellina e io vi auguro una buona serata ciao ciao ciao